Ciao ragazzi, oggi vi vorrei parlare di quella che è la seconda iniziativa molto importante che noi faremo insieme a maggio, ovvero quella dedicata allo studio per tutti quelli che hanno acquistato e studiato sui miei videocorsi e per quelli che lo vorranno fare ancora in questi giorni, invece questo appuntamento del 24 e del 25 maggio dove alla sera con Zoom faremo due ore per ogni giorno come sessione d'esame, ci sarà la commissione d'esame della nostra federazione, parteciperanno quelli che vogliono sottoporsi a questa sessione d'esame per ottenere le due qualifiche di educatore, vicino figlia naturale e recupero cani aggressivi che credo che sia ormai diventata una professione sempre più utile perché questo modo di gestire i cani sempre più lontani da quella che è la loro indole, da quelle che sono le loro necessità, e beh si può dire che quasi tutti i giorni mi interpellano famiglie che vorrebbero la mia consulenza ma io a dir la verità mi occupo specialmente di formare poi i consulenti, eventualmente gli istruttori eccetera, però già ne abbiamo ma stiamo intensificando questa schiera di professionisti della FederGuard che sono attivi sul territorio italiano per poter risolvere i problemi dei cani che ovviamente non si comportano come gaplan perché non sono stati trattati fin da piccoli utilizzando la leadership, molte volte si utilizza che il cane deve assoggettarci a quelle che sono le nostre esigenze, invece dobbiamo sempre partire da quelle che sono le esigenze dei cani. Allora la seconda possibilità per prendere la qualifica è quella di consulente cinofilo per cani da guardia, che è proprio quella specifica, quella dove io sono specializzato ormai da tanti anni, ovvero dare la consulenza necessaria che hanno le famiglie quando sono già in possesso di cani a guardia, quando vogliono magari adottare dei cani a guardia, quando iniziano, magari hanno una cucciolata, vogliono scegliersi il cucciolo, vogliono migliorare le prestazioni dei cani a guardia. Allora ci sono molte persone che fanno questi percorsi per semplice cultura personale, ma io continuo a dire perché è la verità che fare il cinofilo di mestiere oggi è possibile ed è sempre più possibile farlo specialmente come seconda attività, è un'attività molto redditizia che dà molte soddisfazioni e nello stesso tempo può veramente riempire la vita, perché ci si sente molto gratificati quando si entra in una famiglia e si risolvono i problemi che loro hanno con i cani. Oggi i cani per noi sono diventati animali molto importanti, liberarcene perché abbiamo dei problemi che non ci permette più di poterli gestire o addirittura, non so, prendere altre decisioni drastiche, beh è una cosa che ci, si può dire, ci rovina la nostra esistenza. Allora queste due qualifiche per poterle conseguire, la prima, educatore di cinofilia naturale, recupero cani aggressivi, bastano quattro videocorsi. Qualcuno li ha già tutti e quindi si deve solo più iscrivere alla sessione d'esame, a qualcuno ne mancano alcuni e a qualcuno mancano tutti, ma avete ancora tempo perché sarà un esame semplicemente di teoria. Sarà il punto di pertenza per avere tutte le nozioni esatte per poter iniziare poi a fare la pratica con i cani. Come quando noi prendiamo un diploma a scuola, facciamo i cinque anni di scuola, poi mettiamo che sia per geometra piuttosto che per elettrotecnico, non è che siamo poi dei geometri. Inizieremo poi a fare un tirocinio, ma prima ci vuole la pratica. Vi ho parlato di tirocinio perché è ovvio che poi i miei allievi avranno poi la mia assistenza costante man mano che affrontano delle problematiche come lo è già per tutti quelli che adesso invece costituiscono anche la commissione d'esame. Quindi normalmente vi allego sempre il testo di tutte quelle che sono le modalità se volete aderire, quindi 4 videocorsi per educatore di cinofilia naturale e recupero cani aggressivi e 8 per consulente cinofilo per cani da guardia. Avete tempo ancora a iscriversi? Mi pare fino al 15-16 di maggio. Quindi leggetevi quelle che sono le informazioni, potete contattarmi sul mio numero Whatsapp se volete ulteriori delucidazioni, vi ringrazio tanto per avermi ascoltato anche oggi e vi auguro a tutti buona giornata. A presto!